buongiorno a tutti e cari amici dal vostro carissimo amico Giotto di Zona oggi 21 marzo 2023 buongiorno a tutti cari amici dal vostro carissimo amico Giotto di Zona iscrivetevi al mio canale Giotto di Zona condividete il video se vi è piaciuto e mettete un like buona giornata a tutti i nostri carissimi amici iscrivetevi al mio canale Giotto di Zona e vi vedete il video se vi è piaciuto e mettete un like buongiorno buongiorno guardate che bello il mio canale di Zona bellissimo vero? guardate che bezza iscrivetevi al mio canale già finitrone, condividete il video se vi è piaciuto e mettete like, buona giornata a tutti tabari dal vostro carissimo amico già finitrone grazie